Ieri è stata la volta di Luca Ficarrotta, svincolato dalla Nocerina in C1 e già nel ritiro di Cascia. Un altro tassello importante per l'Agropoli di Patron Cerruti, che a questo punto non può più nascondersi. Trattativi avviate anche per Fernando Horacio Spinelli, centrocampista del Siracusa, anche se l'affare sembra difficile poiché il ragazzo ha diverse richieste in Lega Pro. Intanto ieri l'US Agropoli ha disputato la sua quarta amichevole con in Rieti, pareggiando 3-3. In rete Tiscione, autore di una doppietta, e Michele Tarallo. La squadra tornerà in sede il 14.